Al via oggi in Campania i saldi invernali. A Salerno e provincia la spesa per famiglia, stando a quanto riportato da Confesarcenti, si dovrebbe aggirare sui 300 euro. Una persona su due, secondo l'associazione, ha deciso che approfitterà dell'occasione per effettuare almeno un acquisto. Il 45% dei consumatori inoltre ha spiegato di aver atteso l'inizio dei saldi per concludere gli acquisti di Natale. Secondo le stime di Confesarcenti, l'attenzione dei consumatori si rivolgerà su calzature, prodotti di maglieria e pantaloni. Come di consueto, Adconsum ha pubblicato il suo decalogo con tutto quello che c'è da sapere sui saldi per effettuare un acquisto consapevole del giusto rapporto qualità-prezzo della merce.